Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è questo motivo semplicissimo, adatto proprio alle principianti. Allora, è un motivo che sul davanti si presenta in questo modo, sembrano tante piccole V che si formano, e sul dietro è così. Allora, il motivo è formato da 4 maglie più 3, in questo caso io ne ho montato di più, ovviamente per fare il motivo, e ho praticamente posizionato sul ferro 4 più 4 più 4 più 4 più 3, più le due di vivagno che andranno a formare il bordino. In altezza il motivo si realizza in soli 8 ferri, andiamo a vedere come si procede. Ho montato sul ferro 39 maglie, perché il motivo è formato da 4 più 3, quindi 4, 4, 4, 4 più 3, più le due di vivagno che andranno a formare il bordino. Andiamo insieme a fare un solo motivo e partiamo dal primo ferro. Vivagno, vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno. Iniziamo, 3 diritti, 1, 2 e 3. Adesso, il filo è sul dietro del lavoro, lo lasciamo in questo modo, passiamo una maglia presa col ferro di destra a rovescio, quindi in questo modo, la passiamo sul ferro di destra senza lavorare, e rincominciamo da capo, cioè ripetiamo praticamente questo motivo. Chiudo il ferro con 3 diritti, 1, 2 e 3. E naturalmente il vivagno. Secondo ferro, vivagno. E partiamo con il motivo. 3 rovesci. 1, 2 e 3. Andiamo adesso a ripetere quello che è il motivo centrale. Il filo è sul davanti del lavoro, resta tale, quindi andiamo con il ferro di destra a prendere la maglia, come se stessimo lavorando un rovescio, la passiamo sul ferro di destra senza lavorare, e lavoriamo 3 rovesci. 1, 2 e 3. Andiamo a ripetere questo motivo. Terzo ferro, vivagno. Tutte le maglie a dritto, quindi tutto il ferro a diritto, fino alla fine del ferro. Quarto ferro, vivagno, che è a rovescio sul rovescio del lavoro, è il motivo formato da tutte le maglie a rovescio. Quindi tutto il ferro a rovescio, fino alla fine. Quinto ferro, vivagno, un diritto. Vado adesso a ripetere quello che è il motivo centrale, il filo resta dietro, passiamo una maglia presa a rovescio sul ferro di destra, senza lavorare, e lavoriamo 3 diritti. 1, 2 e 3. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con, passo una maglia a rovescio sul ferro di destra, senza lavorare, il filo va dietro, e lavoriamo un diritto, e ovviamente il vivagno. Sesto ferro, vivagno, il motivo è formato da un rovescio, il filo resta davanti, e passiamo una sola maglia, senza lavorare. Vado adesso a ripetere il motivo centrale, tre rovesci, 1, 2, 3, filo resta davanti, passiamo una maglia senza lavorare. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un rovescio, e ovviamente il vivagno che è a rovescio, sul rovescio del lavoro. Settimo ferro, lavoriamo tutto il ferro a dritto, quindi vivagno, e tutto il ferro a dritto, fino alla fine del ferro. ottavo ferro, vivagno, e tutto il ferro a rovescio. Quindi tutto a rovescio, fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora, il motivo è praticamente terminato, per ripeterlo non dobbiamo far altro che ripetere i ferri dal numero 1 al numero 8. Il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!